Smettetela di copiare Warren Buffett, non ha alcun senso comprare un'azienda perché abbiamo scoperto che recentemente la Berkshire Hathaway ha aggiunto nel suo portafoglio azionario una società oppure non andiamo a vendere quella azienda che Warren Buffett ha scaricato di recente in maniera parziale o totale. Ciao ragazzi, ben trovati qui sul mio canale. In questo video c'è tanta carne al fuoco, infatti vedremo cosa è accaduto ad alcuni grandi nomi scaricati in passato da Warren Buffett i quali hanno comunque continuato a correre verso l'alto. Andremo a parlare della vendita di Apple, quindi il dimezzamento della posizione del suo portafoglio azionario, dell'aumento di cash, quello che potrebbe passare adesso nella mente di Warren Buffett e del perché le logiche di una grande azienda come la Berkshire Hathaway siano del tutto distanti e diverse da quelle di un retail, quindi non ha alcun senso copiare le operazioni di Warren Buffett, rimanete incollate fino alla fine. Guardate innanzitutto questa slide, l'aumento della quantità di cash nei suoi bilanci è veramente incredibile, nelle casse dell'azienda è stratosferica. Ovvio che l'azienda attuale capitalizzi molto di più rispetto a quella della metà degli anni 90, ma attualmente questi 277 miliardi circa in cash o strumenti equivalenti cominciano ad avere un peso davvero rilevante rispetto anche a tutta la Berkshire Hathaway, a tutto il suo controvalore. Siamo all'incirca un quarto del peso, credo che non si sia mai vista una percentuale del genere. Quindi divertiamoci, è solo una speculazione, a capire quello che potrebbe accadere, quello che stia accadendo adesso nella mente di Warren. Io mi sposto in Data Roma, un sito, ne esistono anche altri, che ci fornisce la composizione del portafoglio azionario di hedge fund, dei super investor, in questo caso da Berkshire Hathaway, non è ancora aggiornato in quanto ci fornisce i dati del primo trimestre 2024, ma si basa sui modelli F13 e devono ancora arrivare i dati ufficiali, devono ancora esserci forniti del secondo trimestre di quest'anno per quanto concerne gli F13, nei prossimi giorni arriverà l'aggiornamento, ma noi già sappiamo quello che ha come la Berkshire Hathaway perché è stato comunicato all'interno della presentazione del secondo trimestre 2024. Quindi se io qui mi sposto, ora guardate Data Roma, percentuale portafoglio di Apple 40% e controvalore 135 miliardi, ma se io mi sposto, vado a pagina 10 della presentation del file PDF fronito dalla Berkshire Hathaway, io leggo controvalore al 30 giugno 84.2 miliardi. Quindi vi è stata una riduzione significativa, arrotondiamo quindi a un dimezzamento, di questo infatti si parla, e quindi ha un'ulteriore accumulazione di liquidità, tanti tanti miliardi in più, come vedevamo all'inizio. Mi sposto anche sul Balance Sheets, veramente molto solido e voglio farvi ragionare su un altro aspetto. Incontro sempre degli errori quando si parla della Berkshire Hathaway, si va semplicemente a commentare il portafoglio azionario, ma questo pesa più o meno, anche qui arrotondando, per un quarto del patrimonio dell'asset allocation della Berkshire Hathaway. Ad esempio guardiamo questa voce, Investments in Equity Securities, 284 miliardi, quando questa azienda ormai ragiona sul trilione di dollari, sui mille miliardi circa. Poi abbiamo Cash, equivalente anche di Cash, e poi Short Term Investments in USA Treasury Bills. Quindi queste sono, Treasury, obbligazioni governative a brevissima scadenza, 1, 2, 3 mesi. È chiaro che sono equivalenti al Cash, perché praticamente nei prossimi giorni scadono. Negli ultimi due anni, un anno e mezzo circa, hanno reso tantissimo, abbiamo avuto un ambiente a circa 5 punti percentuali. Voi capite bene che 200 miliardi investiti, magari un paio d'anni, a un rendimento circa del 5% all'anno, produrranno alla fine del biennio 40 miliardi. Quindi non credo che abbia avuto tutta quanta questa necessità, con un mercato abbastanza caro, di forzare acquisizioni, in quanto comunque ha prodotto, semplicemente dormendo, in una maniera più sicura possibile, 40 miliardi da nulla, i quali poi potranno essere utilizzati nel prossimo futuro per, ad esempio, acquisire una large cap. E quindi sono tanti questi soldi. Tutto quanto il resto, ebbè, da cosa... che cos'è, ragazzi? E' essenzialmente le aziende che fanno parte di questa che potremmo definire una holding. Quindi all'interno della Berkshire Hathaway vi sono tantissime aziende non quotate in borsa, quindi non fanno parte del portafoglio azionario, e operano in business quali quelli delle ferrovie, delle utilities, delle energie, delle assicurazioni. Sulle assicurazioni Warren Buffett ci ha costruito una carriera, ci ha costruito un impero, ci ha costruito la Berkshire Hathaway, quindi è un'attività che ha affruttato veramente tanto all'oracolo di Omaha. Quindi è molto di più, no? Del suo portafoglio azionario. Però è incredibile come il peso in cash o strumenti equivalenti ormai sia pari a quello del portafoglio azionario. Non abbiamo mai avuto una roba del genere nella storia di Warren Buffett. Io adesso, prima di andare a capire, a speculare sulle varie ragioni, e cercare anche di esaminare molto velocemente lo stato della Apple in termini di valutazione e crescita, voglio farvi vedere questa slide. L'ho presa da Adam Koo. Guardate, nel 1998 Buffett andava a vendere il suo investimento in McDonald's, ok? E probabilmente è stato un grandissimo errore. Perché? Perché guardate la resa che poi ha avuto questo titolo dal 98 ad oggi, più 1444%, quando la Berkshire Hathaway ha fatto poco meno dell'800%. Risultato straordinario, ma comunque estremamente inferiore a quello ottenuto da McDonald's. Quindi è stato un errore. Ma non è detto che la vendita di un'azienda, anche da parte di un grande curo, anche da parte del più grande investito di tutti i tempi, sia la scelta migliore in assoluto, che significhi la morte, che sentenzi la morte sicura e definitiva dell'azienda che ha scaricato. La stessa cosa è accaduta con Costco, ragazzi. Venduta qui a giugno 2020, ci troviamo ad oggi con una crescita addirittura del più 190%, e ha sopraperformato la stessa Berkshire Hathaway. Questo è accaduto. Io non so quello che succederà ad Apple, non vi sto dicendo che è un errore, non vi sto dicendo che ha fatto bene, vi sto semplicemente dimostrando che non vi è una conseguenza matematica, che non sempre sarà la scelta migliore in assoluto, che non vuol dire che le aziende non cresceranno più. Ignoro se Apple farà un meno 50%, un più 100% nei prossimi 5 anni, lo ignoro del tutto, ma volevo farvi riflettere su questo. Warren Buffett e la Berkshire Hathaway portano avanti delle logiche aziendali, quindi hanno decine e decine di aziende di cui sono proprietari, devono operare a volte delle acquisizioni, possono decidere di rivoluzionare l'azienda, quindi ci sono dei momenti in cui riempirsi di cash può essere molto utile, ma non è un qualcosa di collegato necessariamente, sempre e comunque al mercato azionare le sue dinamiche. Sono altre le logiche, capite perché non possiamo ragionare o seguire Warren Buffett? perché risponda ad altre logiche, ignoriamo perché possono servire decine o centinaia di miliardi. Detto ciò, andiamo un po' a vedere qui la situazione di Apple. Io ho disegnato un rettangolo che non è preciso a livello proprio del giorno specifico, eccetera, eccetera, però quel riquadro che ho messo qui in basso a sinistra va a inquadrare il periodo, vediamo 2016-2017, in cui Buffett ha costruito la sua posizione in Apple, ok? Quindi andiamo a collocarci più o meno a metà, questo era più o meno quello del prezzo di carico di quegli anni lì, e arriviamo più o meno, qui sì, facciamo qua ragazzi, al secondo trimestre, non so che giorno ovviamente ha scaricato la posizione in Apple, ma più o meno, collochiamoci da qualche parte nel secondo trimestre del 2024. Ecco, un più 500% stava realizzando, è vero che anche nel trimestre precedente aveva già diminuito del 12% la posizione, però capiamoci, arrotondando al massimo, capiamo qual è il morale della favola, è stato un investimento da circa più 500%, ha cavalcato praticamente tutto il rialzo di questi anni straordinari, dal 2006-2007 ad oggi. Quindi questa posizione è diventata mostruosa all'interno del portafoglio, un peso del 40%, può darsi che a un certo punto, quando magari necessita un po' più di liquidà, che sia una programmazione aziendale, sia giusto prendere i soldi, da dove? Da quell'azienda che ormai ha un peso enorme all'interno del portafoglio, quindi è sempre giusto mantenere un equilibrio, una diversificazione, un money management, eccetera, eccetera, ricordiamocelo questo. Detto ciò, andiamo un po' a vedere qual è la condizione di Apple, ad esempio, negli ultimi tempi, non sta dimostrando una crescita propulsiva incredibile, in termini di aumento del fatturato, qui vediamo poi le percentuali di aumento del fatturato, del 2016-17-18, è vero che c'è stata una passo nel 2019, ma guardiamo ad esempio nel 2020-21, e adesso c'è un fortissimo rallentamento, andiamo a vedere anche qui la crescita degli EPS, è vero che c'è stato un forte rallentamento nel 2023, potremo vedere ragionando sul 2024-2025, anche una crescita degli EPS del 10%, che non è male, tuttavia può darsi che sia già scontata questa cosa nelle valutazioni attuali, un po' troppo, quindi se noi ragioniamo sulle valutazioni degli ultimi 10 anni, abbiamo visto che l'Apple ha viaggiato circa a un PE di 20, e ora sta sperando ai 29, e NTM rispetto a questo momento ha viaggiato a un PE di quasi 22, e ora sta quasi a 32, pertanto non sono delle valutazioni a sconto, non sono nemmeno carissime, ma rispetto anche a tante altre aziende o aziende mega cap, diciamo che le prospettive di crescita in relazione alle sue valutazioni, magari non sono le migliori del mondo in assoluto, non sappiamo se possa essere stato questo il ragionamento, lo ignoriamo, può darsi che Buffett abbia detto, ok, è stato un investimento che mi ha reso tantissimo, più 500%, il suo peso è veramente gigantesco all'interno del portafoglio, in questo momento mi servono dei soldi, e allora vado a prendere profitto qui, diventa un peso di questa azienda specifica, di questa stock più equilibrata all'interno del portafoglio, vado a consultare un mega profitto, non ritengo che sia ad oggi magari l'azienda migliore del mondo, il rapporto rischio rendimento rispetto alle sue valutazioni, al potenziale di crescita dei prossimi anni, ormai diciamo ho spremuto come un limone questo investimento, ho ottenuto il massimo, potrebbe essere questo un ragionamento, e quali sono i motivi per raccogliere cash? Allora io potrei dire ad oggi un investitore X, potrebbe pensare ok, ci sono dei rischi geopolitici molto importanti, si parla di recessione, lo stesso Buffett indicator ci parla di un mercato carissimo, se no andiamo a mettere in relazione il valore del mercato USA, dello stock market USA, con quello del GDP americano, siamo veramente a dei livelli altissimi, Buffett creò questo indicatore, e l'ha sempre ritenuto molto valido per capire come siamo collocati all'interno del mercato azionario, però ritengo che non sia questa la ragione, o quantomeno non sia quella principale, conoscendo, avendo studiato Warren Buffett, ovviamente non conoscendolo personalmente, ma avendo seguito tutto quanto quello che ci ha raccontato, nel corso degli anni, avendo letto tanti libri sulla sua figura, eccetera eccetera, conoscendo i suoi aforismi, ci ha sempre detto, ci ha sempre fatto intendere, come non sia agganciato alle dinamiche macroeconomiche, non si sia mai lanciato a fare un market timing, basandoci sulla macroeconomia, sulla prossima recessione, cercando di anticiparla, fare il guru in tal senso, è sempre stato più legato ai fondamentali di un'azienda, con le logiche del lungo termine, quindi mi interessa se questa azienda è solida, se ha un grande business, se ha un fossato, se ha delle valutazioni giuste, quello che farà verosimilmente nei prossimi 5-10 anni, su quello ci si concentra, e non so dove siamo esattamente collocati a livello probabilistico, all'interno di un ciclo economico, quindi ritengo che potrebbe non essere assolutamente questa la ragione, siamo soltanto portando avanti, ipotizzando tutte le ragioni che possono essere all'interno, di qualcuno che ha fatto questa scelta, invece ritengo che sia assai più probabile, questa cosa qui ragazzi, può darsi che stia per acquistare quello che in America potrebbero definire un elefante, che ormai è stato puntato, quindi una grande azienda, che capitalizza decine o centinaia di miliardi di dollari, e voglia proprio acquistarla, e inserirla in portafoglio, e quindi pensa che sia un investimento, che vada a rendere ancora più solido il suo portafoglio azionario, o comunque l'asset allocation della Warray Buff, della Berkshire Hathaway, e quindi che sia più congeniale rispetto a tenersi una mega posizione, arrivata a questo punto su Apple, e quindi quale potrebbe essere un candidato, forse Chabbo ragazzi, non lo sappiamo, lo ignoro, è un'ipotesi, o qualcun altro, un'azienda X, quindi questo elefante ipotetico, sappiamo come Warren aveva dichiarato nei trimestri trascorsi, e aveva chiesto alla SEC, di non diffondere, cioè di mantenere uno stato di riservatezza, su una sua acquisizione, su un suo ingresso, poi ovviamente alla fine lo abbiamo saputo, ma dirò addirittura per tre trimestri questa cosa qui, andò infatti a investire in Chabbo ragazzi, un'azienda leader nel campo delle assicurazioni, sappiamo quanto Warren Buffett si è innamorato di questo settore, quanto ci abbia creduto, e quanto abbia ottenuto da questo settore, quindi 6.7 miliardi di dollari, gli hanno fatto prendere solo una piccola parte dell'azienda, non sappiamo se magari possa decidere di acquistarla tutta, e quindi questo potrebbe essere il suo elefante, è un'ipotesi, e pertanto servono soldi semplicemente, inoltre è un'altra ipotesi quale potrebbe essere, sta già pensando alla Berkshire Hathaway, del prossimo futuro, alle logiche aziendali di quella che sarà la Berkshire, Berkshire nei prossimi anni, e quindi potrebbe essere intelligente e utile, in questo esatto momento, avere più liquidità e meno peso in Apple, e lasciare la strada futura a Greg Abel ragazzi, che è il suo successore, voglio dire, sono troppe, sono diversissime le dinamiche di un'azienda, ad esempio anche delle cause in corso, non li costeranno mai miliardi e miliardi e miliardi di dollari, ma la Berkshire ha alcune cause in corso, e potrebbe dire attirare fuori qualche soldino, capite bene quanto sono diverse le situazioni, oppure voi avete Apple, ma non ci avete fatto il più 500%, e non rappresenta il 40% del vostro portafoglio, ma rappresenta solo il 5%, sta benissimo lì, non è un grande problema, quindi ognuno ha la sua storia, non ha alcun senso copiare Warren Buffett, non sappiamo quello che combina, lui ha una grandissima azienda da portare avanti, e non si tratta solo di investimenti azionari, come vi dicevo, ci sono 500 miliardi di controvalore in asset, che non c'entrano nulla con un portafoglio azionario, per quanto riguarda le aziende, poi abbiamo visto altri 250 e passa miliardi, per quanto riguarda treasury, cash, eccetera, e quindi è una situazione diversissima, unica, chi negli anni scorso cerca di copiare Warren Buffett, e allora se desiderava questo, perché anni e anni fa non ha investito sulla Berkshire Hathaway, ti compri le azioni della Berkshire Hathaway, e farà esattamente quello che fa questa azienda, questo è ovvio, quindi volevo raccontarvi un po' la situazione, fatemi sapere se avete apprezzato questo contenuto, quali sono le vostre idee a riguardo, vi chiedo un'iscrizione al canale, vi lascio un bel like per sostituire tutto quanto il mio lavoro qui su YouTube, vi do appuntamento a prestissimo, nel fronte di Ampubia con il maggiore della vita nell'investimento.